Questo tiramisù è una roccia! Guardate come il coltello rimane piantato E la direttora tira su tutto il tiramisù Ecco perchè si chiama tiramisù Perchè fa tirare su così You know, tiramisù menta, pick me up Pick me up, yes, pick me up Only in Japan bare Yes Eh Era Grazie a tutti.